Con i titolari di Maison Loft questa nuova attività che apre nel centro storico di Pieve di Soligo che cosa offrirete ai pievigini ma non solo? Buongiorno, noi siamo contenti e onorati di aprire su questo paese e su questo palazzo storico per dare ai pievigini una nuova realtà di artigianalità e un sapore nuovo che può dare sia un evocativo del prodotto ma sicuramente qualcosa in più all'animo. I prodotti che offrirete ovviamente ai pievigini vengono dal territorio italiano, che tipo di selezione è stata fatta? Sì, vengono tutti dal territorio italiano, abbiamo scelto di tenere una linea con una fascia prezzo altissima, vogliamo accontentare i clienti in questo periodo appunto un po' di crisi ma noi ci crediamo e con la qualità del servizio e della merce speriamo di riuscirci nella nostra impresa. Di solito quando c'è un'inaugurazione si ringraziano sempre delle persone, che ringraziamenti vi sentite di fare oggi? I ringraziamenti sarebbero tanti, cercherò di essere breve. Innanzitutto devo ringraziare l'amministrazione comunale, in primis con il sindaco che nel momento del bisogno ci è sempre stato e ci è sempre aiutato anche per il carattere burocratico e amministrativo. Devo ringraziare per la parte di aver ogliato i meccanismi l'architetto Bruno Delcol e devo ringraziare i nostri familiari, la gente che ci ha sempre supportato. Io in primis devo ringraziare mia moglie che è stata sempre un po' il baluardo su questo obiettivo e ci metteva sempre un po' con i piedi per terra. Con l'assessore al commercio e vice sindaco di Pieve di Soligo, Luisa Cigagna, oggi a Pieve di Soligo un messaggio che va un po' controcorrente con quello che è il dato nazionale. Tante chiusure anche nella marca trevigiana invece oggi si apre una nuova attività commerciale. Sì, assolutamente è vero, siamo come dire orgogliosi di questo trend positivo che caratterizza il nostro comune. Dal 2017 a oggi ci sono state varie aperture di nuove attività commerciali e quindi siamo confortati da questa vitalità e ci auguriamo che possa proseguire proprio perché il commercio è il tessuto produttivo che rende vitale il centro storico di Pieve di Soligo e anche delle nostre frazioni. Una cosa interessante è che tutte le attività che sono state aperte fino ad oggi sono attività promosse appunto dall'imprenditoria femminile e questa è una cosa interessante, una nota in più che forse vuole appunto significare anche la voglia di imprenditoria, di impegnarsi appunto del mondo femminile. E a livello sociale invece quanto la cittadinanza ha bisogno anche di notizie positive come questa? Assolutamente, io credo che come dire le notizie positive alimentano le notizie positive, vedere che qualcuno ha il coraggio di iniziare una nuova attività e di mettersi in gioco forse stimola anche qualcun altro a provarci. Quindi noi assolutamente auguriamo tutta la fortuna e il successo a queste iniziative che si aprono e siamo appunto orgogliosi di vedere queste vetrine che si aprono a Pieve di Soligo e che animano il nostro centro storico. E quindi coppie nella vita privata e coppie anche nel mondo professionale. Sì, era il nostro sogno e adesso l'abbiamo realizzato. Sì, era il nostro sogno.